Domenica diurne aperte nei sette comuni dell'entroterra per la consultazione referendaria in merito alle fusioni tra comuni per dar vita a due nuove realtà Colli al Metauro, Montemaggiore, Serrongarina e Saltara e terre roveresche Barchi, Orciano, Piagge e San Giorgio. In tutto 14.481 aventi diritto dovevano mettere una crocetta o sul sì o sul no. In sei comuni si è ampiamente affermato il sì, in uno invece ha stravinto il fronte del no. A Montemaggiore, mettendo così seriamente in forse la fusione, è dove è andato a votare il 63% degli aventi diritto, quasi 1.500 persone, con una percentuale per il no del 63,44% e un 36,56% per il sì. A Saltara dove ha vinto invece di netto il sì, poco meno della metà delle persone è andata a votare 44,15%. Per il sì hanno votato il 70% delle persone e per il no il 30%. A Serrongarina, terzo comune di Colli al Metauro, vittoria di sì di misura con il 53,5% mentre il no è un 46,5%. Adesso la situazione è abbastanza complicata perché ovviamente io non me la sento di dire alla regione di andare avanti e di proseguire, anche se poi spetterà l'ultima parola appunto alla regione stessa che dovrà valutare la situazione nel complesso perché su tre comuni saltare sull'Ungarina il voto è passato per il sì, saltara con una larga maggioranza e il complesso dei votanti è favorevole alla fusione quindi l'intento generale è quello di andare avanti su questo processo. Qui a Montemaggiore invece questo no anche di larga misura ci deve far riflettere e deve farci prendere una decisione che adesso insieme all'amministrazione dovremo ponderare bene e valutare il da farsi. Lei si incontrerà con i suoi colleghi, gli altri sindaci, quali sono le considerazioni che farete? Non lo so, infatti ci dobbiamo incontrare e valutarle assieme per decidere di dare anche una linea alla regione. Tutto più semplice per terre roveresche, futura fusione tra Barchi, Piaggia, Orciano e San Giorgio dove 1.659 cittadini hanno detto sì mentre solo 525 hanno messo la crocetta sul no, con percentuali schiaccianti che non lasciano alcun dubbio a riguardo. A Barchi 83,3% è per il sì e un 16,7% per il no. A Orciano ha detto sì l'82,6% contro il 17,4% del no. A Piaggia il 63,6% vuole la fusione mentre il 36,4% non la vuole. Infine a San Giorgio sul sì hanno messo una crocetta il 72,9% dei votanti lasciando al no solo un 17%.